Ivan Radovanovic, quanto brucia ancora la sconfitta subita domenica contro il Chievo? Brucia, brucia veramente perché dopo la partita siamo rimasti tutti in male, perché quella sconfitta a Verona fa male. Abbiamo giocato, abbiamo creato tanto, soprattutto in primo tempo. Secondo me io in primo tempo non pensavo mai di perdere quella partita perché eravamo troppo dominati rispetto al Chievo. Loro in un tiro hanno fatto un gol, però bisogna fare così, bisogna fare il risultato, non tanto gioco. Perché adesso le prossime partite sono fondamentali per noi, bisogna fare bene. Certo che il prossimo impegno è già di quelli importanti, la seconda in classifica, la Lazio. Ma l'Atalanta contro le grandi quest'anno ha dimostrato di poter dire la sua e in più di un'occasione. Sì, abbiamo dimostrato contro Napoli, Milan, Inter e queste grandi squadre che possiamo vincere. Possiamo anche sorprendere anche a Roma, Lazio. Però bisogna partire umili, bisogna partire come l'Atalanta e bisogna guardare di portare qualcosa a Bergamo. Perché voi, ripeto, ci aspettano partite molto importanti. Però noi da oggi cominciamo a preparare bene la partita contro la Lazio. Ivan, secondo te cos'è mancato contro il Chievo? Secondo me, magari diciamo un pochino cattiveria davanti alla porta, perché abbiamo creato e avevamo opportunità per fare male a Chievo. Però va bene, prendiamo questi errori durante la settimana, vediamo dove abbiamo sbagliato e guardare di non sbagliare più. Grazie.